O pragmatici come Austria, Ungheria e Germania, che si oppongono all'embargo sulle forniture del gas russo, poiché le sanzioni danneggerebbero più l'Unione Europea che la Russia. O flagellanti, ma per una buona causa, perché rinunciare al gas significa tagliare finanziamenti alla macchina da guerra di Mosca in Ucraina. Vladimir Putin conosce la frattura e durante una riunione sull'energia lo dice a chiare lettere. L'Europa non può fare a meno del gas russo. I nostri cosiddetti partner dei paesi ostili riconoscono che non possono fare a meno delle risorse energetiche russe, tra cui il gas naturale. Un'alternativa sensata, dice Putin, per l'Europa al momento è semplicemente inesistente. Ma nonostante queste verità evidenti per tutti, i paesi europei parlano continuamente di fermare le forniture russe e quindi destabilizzare ulteriormente il mercato, con un ulteriore aumento dei prezzi, prima di tutto per i loro cittadini. L'Europa taglia suo danno dunque, ma il Cremlino, consapevole che metà del bilancio federale russo è rappresentato dall'export di petrolio greggio, prodotti petroliferi e gas naturale, sta già guardando nuovi clienti. E' necessario diversificare le esportazioni, continua il presidente russo. Partiamo dal fatto che in futuro le consegne di risorse energetiche verso ovest diminuiranno comunque. Quindi dobbiamo rafforzare la tendenza degli ultimi anni, riorientando il nostro export verso i mercati in rapida crescita dell'est e del sud. Con l'Europa a due velocità anche sull'embargo, la Real Politik di Putin scava dunque nella frattura tra paesi europei e accetta la prova di forza.